Nel contesto sociale che stiamo vivendo la disabilità sembra dover essere negata, nascosta. Vengono esaltati modelli a livello sociale di qualità, perfezione di vita. Invece la vita delle persone è plurima e diversa e semplicemente la diversità rappresenta una dimensione del creato. Siamo tutti diversi, anche le persone che vivono una condizione di salute diversa o una disabilità possono accedere a tutti i servizi e devono avere tutte le facilitazioni possibili per i loro percorsi di cura. Il prossimo 10 ottobre è la giornata mondiale per la salute mentale e noi abbiamo deciso di aprire le strutture cattoliche di ispirazione cristiana per un grande Open Day nazionale. Sabato 13 ottobre oltre 100 strutture cattoliche apriranno le loro porte per farsi conoscere, per raccontare i loro percorsi di cura, per raccontare in che modo accolgono i loro ospiti e quanto bene riescono a fare per tante famiglie e tante persone con disabilità. È una scelta precisa che va contro l'idea di segregazione, che vuole combattere l'idea dell'isolamento per ridare piena dignità e piena cittadinanza a queste persone. In questo Open Day sarà possibile accedere a oltre 100 strutture italiane e l'elenco e le loro caratteristiche si possono trovare sul sito www.accolti.it dove sono stati pubblicati anche i programmi e gli orari di accesso alle strutture. Quindi è un invito a conoscere meglio il mondo della riabilitazione, della disabilità e tutte le strutture che in Italia svolgono questo servizio.